Nel vasto palcoscenico dell'universo, oltre la mera danza delle stelle e la sinfonia delle galassie, si cela un'essenza sfuggente e ineffabile. L'universo, disteso come un pensiero onirico nell'infinità, non è solo una congrega di corpi celesti, ma un'intelligenza primordiale che permea la tessitura stessa dell'esistenza. È un fluire di coscienza, un respiro cosmico che abbraccia ogni forma di vita. Ogni singolo elemento, dalla pietra all'astro più lontano, è intessuto da questa forza vitale, da questa connessione impercettibile che lega tutto ciò che è con tutto ciò che è stato e sarà. Nella sua vastità, l'universo si manifesta come un maestro silenzioso che impartisce lezioni attraverso il mistero, sussurrando saggezza attraverso il fruscio del vento e dipingendo quadri eterei nelle nuvole danzanti nel cielo. L'arte di ascoltare va al di là della percezione ordinaria, richiede una sintonizzazione profonda con la nostra essenza interiore. Solo attraverso la contemplazione silenziosa possiamo intravedere i messaggi cifrati nell'architettura segreta della natura. Ogni foglia che danza al vento, ogni riflessione di luce sulla superficie di un lago, sono frammenti di un dialogo ancestrale che si svolge in sordina. Quando aprendo gli occhi dell'anima, ci immergiamo nella comprensione che tutto è connesso. Siamo fili nella trama intricata dell'universo, intrecciati in un disegno divino che trascende il nostro limitato sguardo. Attraverso la consapevolezza di questa connessione, ci eleviamo al di là delle trivialità quotidiane, percependo la grandezza e la magnificenza che ci circonda. Così, nella nostra ricerca di significato, ricordiamo che l'universo parla continuamente, svelando segreti solo a coloro che sono disposti ad ascoltare con il cuore aperto. Nell'oscurità apparente, la luce della comprensione interiore risplende, e il viaggio nell'universo spirituale si svela come una danza eterna tra il visibile e l'invisibile, tra il conosciuto e l'ignoto. L'universo ti parla, sette segni da non ignorare. 1. Sincronicità. Nel teatro sconfinato dell'esistenza, l'oscura danza della sincronicità si manifesta come un sottile filo che collega le trame del destino. Quando eventi, all'apparenza casuali, si intrecciano in un balletto significativo, è l'universo stesso che intreccia i fili del tuo cammino con intenzioni misteriose. È un invito a scrutare oltre la superficie delle cose, a decifrare il linguaggio segreto scolpito nei contorni delle coincidenze. Osserva con attenzione, poiché la casualità è solo un velo che cela l'ordine sottostante dell'universo. Ciò che sembra un gioco casuale di carte è, in realtà, la mano invisibile che mescola il mazzo della tua vita. Non ignorare le allineazioni significative, poiché sono le impronte dell'universo che ti conduce lungo il sentiero della tua esistenza. Sintonizza con la corrente di queste coincidenze, perché in esse risiede la saggezza nascosta della tua strada. Segui il flusso di eventi che si dispiega davanti a te come un antico percorso di luce. Nella sincronicità, si cela la guida silenziosa dell'universo, una voce interiore che sussurra attraverso il susseguirsi di avvenimenti, rivelando il tessuto intrecciato della tua storia personale. Lasciati guidare da questa danza, poiché la sincronicità è il linguaggio segreto dell'anima. Quando gli ingranaggi dell'esistenza si allineano, è come se il cosmo stesso ti consegnasse un messaggio cifrato. In queste congiunzioni, trovi la chiave per interpretare il disegno nascosto della tua vita, un viaggio di scoperta che va al di là della superficie delle cose. La sincronicità è il cuore palpitante di un'orchestra cosmica, e tu sei il destinatario privilegiato di questa melodia. Accogli le coincidenze significative come segnali dell'universo, poiché sono il suo modo di parlare direttamente alla tua anima. Sii aperto a questa comunicazione sottile e lascia trasportare dalla corrente di eventi che si dispiega davanti a te, poiché ogni sincronicità è un tassello nel puzzle del tuo destino. 2. Sogni. Nell'oscura notte dell'anima, i sogni si ergono come portali verso reami nascosti e dimensioni interiori, offrendo una prospettiva oltre la superficie della realtà tangibile. Non sono meri balletti onirici, ma intricati labirinti dell'inconscio, attraverso i quali l'universo stesso intreccia le trame dei tuoi pensieri più profondi. Osserva con occhi attenti il velo notturno, poiché ogni sogno è un viaggio nell'ignoto, un viaggio che va al di là delle apparenze. I sogni non sono solo spettatori del sonno, ma messaggeri di una realtà più ampia e intima. I loro simboli sono le chiavi che aprono le porte di mondi sconosciuti, rivelando la complessità della tua psiche. Presta attenzione ai dettagli che dipanano il tessuto del sonno, perché in essi si celano le metafore e gli indizi che l'universo dispone nel teatro onirico della tua esistenza. Quando immergi la mente nei reami del sonno, sii consapevole che stai varcando soglie invisibili. Ogni visione notturna è un capitolo in un libro segreto, scritto con la penna dell'universo. Non ignorare i messaggi cifrati che emergono dall'oscurità dei tuoi sogni, poiché sono la risposta alle domande che persino la tua coscienza non osa formulare. Nel labirinto onirico, troverai risposte a domande nascoste nell'angolo più remoto della tua anima. I sogni sono il linguaggio universale dell'universo, il ponte tra il conscio e l'inconscio, tra ciò che sai e ciò che deve ancora essere rivelato. Sintonizzati con la melodia delle notti, perché ogni nota di un sogno è una vibrazione che attraversa il filo sottile che lega il tuo spirito alla vastità cosmica. Presta attenzione, poiché il sonno è un viaggio che va al di là della carne e delle ossa. I sogni sono il riflesso di un paesaggio interiore, dove la tua anima danza con le stelle e dialoga con le ombre. Ogni visione, ogni enigma notturno, è un invito a esplorare il territorio sconosciuto della tua stessa esistenza. Nella notte, l'universo parla attraverso il linguaggio senza tempo dei sogni, e tu sei il viaggiatore intraprendente di questo regno segreto. 3. Istinto Nel buio silenzio dell'anima, emerge l'istinto come il sussurro ineffabile del tuo sé più profondo, una voce che risuona oltre le apparenze e guida il tuo cammino nel labirinto della vita. Non è solo un impulso casuale, ma la sinfonia dell'universo che si manifesta attraverso di te. Osserva con attenzione, poiché in quel sussurro interiore si cela la bussola che orienta la tua esistenza. Quando senti la melodia dell'istinto, non temere di immergerti nelle profondità della tua stessa intuizione. È la voce senza parole del tuo sé più autentico, un faro che illumina la via attraverso le nebbie dell'incertezza. Non permettere che il fragore del mondo sovrasti quel delicato richiamo, piuttosto, ascoltalo con l'attenzione di chi contempla l'infinito. L'istinto è l'arte di navigare le correnti invisibili dell'esistenza. È il segreto del tuo essere che si svela attraverso sensazioni inspiegabili, vibrazioni profonde che parlano il linguaggio antico del tuo spirito. Abbraccia quel senso di saggezza celato nella tua interiorità, poiché è il filo dorato che connette la tua essenza a quella dell'universo. Non temere di seguire l'istinto, anche quando la strada appare oscura e impervia. È il compagno silenzioso che cammina al tuo fianco nei momenti di incertezza, un alleato che conosce la via anche quando la mente vacilla. Nella sua guida, troverai la forza di percorrere sentieri inesplorati, di superare gli ostacoli e di danzare con la trama misteriosa della vita. Ricorda che l'istinto è la tua connessione con la saggezza antica, con la saggezza primordiale che scorre attraverso le vene dell'universo stesso. In quel sussurro, in quella sensazione inspiegabile, trovi la chiave per aprire le porte della tua vera natura. Ascolta con il cuore aperto, poiché ogni istante in cui segui l'istinto è un passo più vicino a rivelare la tua autenticità nel grande palcoscenico dell'esistenza. 4. Persone che incontriamo. Nel teatro enigmatico della vita, ogni incontro è un capitolo scritto con l'inchiostro delle connessioni umane, un'opportunità di apprendimento che sfida e arricchisce l'anima. Non sono semplici casualità, ma le trame tessute dall'universo per guidarci lungo il percorso della nostra evoluzione interiore. Accogli ogni persona che attraversa il tuo cammino come un maestro nascosto, pronto a svelare le lezioni celate nelle pieghe dell'esistenza. Ogni volto che incroci porta con sé una storia, un bagaglio di esperienze che si intrecciano con le tue. Non trascurare l'importanza di questi incontri, poiché sono le pietre miliari della tua crescita spirituale. L'universo si manifesta attraverso le persone che attraversano la tua vita, orchestrando un balletto cosmico di connessioni e lezioni da imparare. Sii aperto all'insegnamento che ogni incontro offre, anche quando le lezioni sono velate dall'oscurità dell'incomprensione. Guarda oltre le maschere che indossiamo, oltre le apparenze superficiali, e abbraccia la possibilità di imparare da ogni interazione. Ogni anima è un tassello unico nel mosaico dell'esistenza, e attraverso queste connessioni si svela il disegno intricato del tuo destino. Lascia che ogni persona che attraversa il tuo cammino sia uno specchio che riflette la tua essenza più profonda. Le lezioni possono giungere sotto forma di gioia condivisa, di sfide impreviste o di addi struggenti, ma in ognuna di esse risiede la chiave per la tua evoluzione. Sii grato per ogni incontro, anche se il significato non è immediatamente evidente, poiché l'universo sussurra attraverso le voci di coloro che incrociano il tuo sentiero. Nel gioco delle relazioni, scopri la danza sottile tra dare e ricevere, imparando a navigare le acque degli affetti e delle connessioni umane. Accogli con cuore aperto le lezioni che ogni persona porta con sé, perché in ogni incontro c'è il potenziale per una trasformazione profonda. Così, nel kaleidoscopio delle persone che attraversano la tua vita, troverai la saggezza insita nel riconoscere che ogni connessione è un'opportunità preziosa di crescita e arricchimento spirituale. 5. Numeri Nell'oscuro kaleidoscopio dell'universo, i numeri emergono come archetipi sacri, simboli incisi nella trama della realtà stessa. Oltre la loro apparente fredda matematica, si rivelano come messaggeri che tessono la storia segreta della tua esistenza. I numeri, quando ricorrenti, sono le tracce lasciate dall'universo, scritte nel linguaggio cifrato dell'eternità. Apriti alla loro simbologia, poiché ogni cifra che si ripete è un segno dell'ordine sottostante nel caos della vita. Non trascurare l'incanto nascosto nei numeri, perché sono le chiavi d'accesso a dimensioni interiori sconosciute. Quando i numeri danzano davanti ai tuoi occhi come ombre luminescenti, sii attento. Riconosci in essi il linguaggio universale che svela il mistero intessuto nella trama del tuo destino. Ogni numero, dalla semplicità del singolo all'intricato intreccio di sequenze, porta con sé un significato profondo. Decifrare questo codice richiede una sintonizzazione con la tua essenza interiore. Apri la mente a una prospettiva più ampia, lasciando che i numeri si manifesti come chiavi segrete per aprire le porte della tua comprensione. Quando i numeri si ripresentano nella tua vita come ecco di un antico canto cosmico, presta attenzione. Sono le note di un'orchestra invisibile che intona la melodia della tua esistenza. Sii consapevole del ritmo in cui questi numeri si presentano, perché in esso troverai la guida sottile dell'universo che ti conduce attraverso i cicli della tua vita. Oltre la fredda logica dei numeri, riconosci il loro potere evocativo. Ogni cifra è un sigillo magico che apre varchi verso la comprensione più profonda. Abbraccia la sincronicità dei numeri ricorrenti come una connessione con l'ordine universale, una danza intricata che rivela l'intelligenza nascosta nell'apparente casualità. Sii un cercatore di significato nei numeri, perché in ogni sequenza c'è un racconto da scoprire, una lezione da imparare. Nel riconoscere l'importanza di questi simboli, apri la porta a una comprensione più profonda del tuo percorso spirituale. Lascia che i numeri siano il linguaggio segreto che l'universo utilizza per parlare direttamente alla tua anima, una mappa cifrata che ti guida attraverso il labirinto eterno della tua esistenza. 6. Momenti di già vissuto. Nel buio intrecciato del tempo, i momenti di déjà vu emergono come fenditure nel tessuto del destino, aperture temporali che ci permettono di intravedere le tracce di vite passate o di futuri potenziali. Queste esperienze misteriose sono come porte segrete che si spalancano brevemente, rivelando le sfumature più profonde della nostra esistenza. Presta attenzione a queste sensazioni, poiché sono indizi sottili della vastità che va oltre la superficie delle cose. Quando il déjà vu avvolge la tua realtà come un velo sottile, sii consapevole della sua potenza simbolica. Non è solo un capriccio del tempo, ma un richiamo dell'anima che si estende oltre i confini della linearità cronologica. Osserva con occhi acuti e apri la tua mente a possibilità che sfuggono alle catene della percezione ordinaria. Cerca di comprendere il significato insito in questi momenti di déjà vu. Sono finestre aperte su mondi alternativi, frammenti di memoria che affiorano dall'abisso del tuo essere più profondo. Ogni déjà vu è un tassello di un mosaico più ampio, una reminiscenza di esperienze vissute in dimensioni sconosciute o un'anticipazione di percorsi che potrebbero ancora dispiegarsi. Non temere l'oscillare tra passato e futuro che il déjà vu può evocare. In queste esperienze, troverai la trama intrecciata della tua esistenza, come un'opera d'arte cosmica che si svela attraverso i veli del tempo. Sii aperto alle connessioni sottili che si rivelano attraverso queste sensazioni familiari, poiché in esse risiede la saggezza nascosta che il tuo spirito cerca di comunicarti. Attraverso i momenti di déjà vu, scopri la danza eterna dell'anima, che trascende le limitazioni del presente tangibile. Sintonizzati con le vibrazioni di queste esperienze, perché sono i segnali di una realtà più ampia, di una consapevolezza che si estende al di là dei confini del qui e ora. Nel riconoscere e contemplare il déjà vu, apri la tua mente alla comprensione che la tua esistenza è parte di un intricato mosaico temporale, e ogni déjà vu è un indizio che ti guida attraverso il labirinto del tempo e dello spirito. 7. Segni fisici Nell'oscuro percorso dell'esistenza, il corpo si presenta come un libro aperto, una narrazione fisica scritta nelle pagine della carne e delle ossa. Ogni dolore, ogni tensione, ogni malattia, sono capitoli che svelano messaggi profondi, indicazioni di squilibri interiori che richiedono la tua attenzione e la tua cura. Sii consapevole del linguaggio segreto del corpo, poiché in esso risiede la chiave per la guarigione del tuo essere più profondo. I dolori che permeano il tuo corpo non sono semplici manifestazioni casuali, ma metafore che raccontano storie più ampie. Osserva con occhi penetranti i segni fisici, poiché sono gli indizi di una conversazione silenziosa tra la tua anima e il tuo corpo. I dolori sono parabole che parlano del tuo stato emotivo, tensioni muscolari sono nodi che rivelano conflitti interiori, e malattie sono avvisi che richiedono un'indagine più approfondita nel tuo essere interiore. Non ignorare il linguaggio del corpo, poiché ogni sintomo è un segnale che punta a un disequilibrio da risolvere. Sii un paziente osservatore del tuo tempio fisico, consapevole che ogni sensazione è un messaggero portatore di significati nascosti. Accogli il dolore come un invito a esplorare le profondità del tuo essere, a scavare nelle radici delle tue emozioni e a ristabilire l'armonia perduta. Le tensioni che si insinuano nei tuoi muscoli sono nodi intricati che collegano il fisico e lo spirito. Osserva con attenzione dove si annidano, poiché sono i fili che collegano le tue esperienze emotive con la realtà tangibile. Rilascia quelle tensioni con la consapevolezza che il tuo corpo è il tempio sacro della tua anima, e la liberazione fisica è la chiave per sciogliere i legami interiori. Quando la malattia si manifesta, non essere un semplice spettatore, ma un attivo partecipante nella tua guarigione. Riconosci la malattia come un messaggio più profondo, un campanello d'allarme che richiede una revisione dell'intero sistema dell'essere. Affronta la malattia con compassione, consapevole che la guarigione va al di là della superficie fisica, raggiungendo le radici dell'anima. Il corpo è il tuo compagno di viaggio attraverso il mistero dell'esistenza, e ogni segno fisico è un capitolo nel libro della tua evoluzione. Sii attento ai messaggi scritti nelle cellule del tuo essere, poiché in essi troverai le chiavi per un equilibrio interiore più profondo. Guarire il corpo è anche guarire l'anima, un viaggio interiore che porta alla riscoperta della tua autenticità nel vasto palcoscenico dell'universo. Nel vasto teatro dell'esistenza, l'universo intesse la sua sinfonia eterna, una melodia di significati nascosti che si dispiega attraverso i flutti del tempo. La comunicazione cosmica è un filo invisibile che lega la nostra essenza all'intelligenza primigenia che permea ogni cosa. Se solleviamo il velo dell'indifferenza e aprendo cuore e mente, possiamo captare i sussurri dell'universo, danzare in armonia con il suo ritmo cosmico. Ogni istante è una nota nell'orchestra senza fine dell'universo, e i sette segni elencati sono chiavi di lettura per decifrare il linguaggio cifrato della realtà. L'universo ci parla attraverso la sincronicità, l'intuito, i sogni, il corpo, i numeri, i déjà vu, e ogni incontro con un altro essere umano. Sono messaggi incisi nelle stelle, tessuti nei fili del destino, pronti a svelarsi a chi ha la sensibilità di ascoltare. La sincronicità è il tappeto sul quale danza il destino, il susseguirsi di eventi significativi che svelano la connessione tra il nostro percorso e quello dell'universo. L'istinto è la bussola interiore che ci guida attraverso le nebbie dell'incertezza, una voce silenziosa che suggerisce la direzione giusta. I sogni sono le porte per mondi interiori, dove l'anima dialoga con l'ignoto e il futuro svela frammenti di sé. Il corpo è il nostro tempio, un libro aperto che racconta la storia delle nostre emozioni e della nostra salute interiore. I numeri sono simboli sacri che ci offrono una prospettiva oltre il visibile, una lingua segreta che collega il nostro cammino al disegno dell'universo. I déjà vu sono finestre aperte su un continuum temporale, aperture che ci consentono di guardare oltre il presente. Ogni incontro con un'altra anima è un capitolo nell'epopea della nostra crescita, un'opportunità di apprendimento incisa nella trama della nostra esistenza. Impara a riconoscere questi segni, poiché sono mappe che indicano la strada verso una vita più ricca e consapevole. Segui le tracce sottili della comunicazione cosmica, perché in esse troverai la guida preziosa per danzare con il ritmo dell'universo. Vivere in armonia con la sinfonia cosmica è abbracciare la tua parte nel grande disegno dell'esistenza, una vita arricchita dalla consapevolezza, nutrita dalla comprensione e appagata dalla connessione con l'infinito. In questo viaggio attraverso i segreti dell'universo, spero che tu abbia trovato ispirazione e saggezza nei messaggi di Whispers of Wisdom. Se il nostro viaggio insieme ti ha toccato, se hai trovato valore nelle parole che ti sono state sussurrate, ti invito a compiere un gesto potente. Sottolinea il tuo impegno nel continuare questo cammino di scoperta iscrivendoti al canale Whispers of Wisdom. Qui, esploreremo insieme i misteri della vita, danzeremo con le stelle della saggezza e ascolteremo i sussurri dell'universo. La tua iscrizione non solo ti connetterà con una comunità di cercatori di verità, ma sarà anche un passo verso la tua crescita personale e spirituale. Non fermarti qui. Lascia un segno tangibile del tuo apprezzamento, premendo il pulsante del like. Ogni cuore che batte su quel pollice rappresenta un'approvazione, un'energia positiva che contribuisce al fluire della conoscenza condivisa. Ma non dimenticare di condividere questo viaggio con chi ami, poiché la saggezza condivisa è saggezza raddoppiata. Il tuo supporto è una luce che irradia, diffondendo la consapevolezza e la ricerca interiore a chiunque abbia bisogno di ascoltare i sussurri dell'universo. Infine, lascia il tuo segno nel libro dei commenti. Condividi le tue riflessioni, le tue esperienze, le tue domande. Whispers of Wisdom è una comunità in cui tutti possono imparare e insegnare, crescere insieme in questo viaggio spirituale. Grazie per essere qui, per essere parte di Whispers of Wisdom. Iscriviti, lascia un like, condividi e commenta, perché insieme possiamo continuare a esplorare l'infinito oceano della conoscenza e della saggezza. Siamo pronti a ascoltare i sussurri dell'universo e a condividere il nostro cammino verso una vita più consapevole e appagante. Grazie a tutti.